Qualche giorno prima ero passata da Elliot. Ehi, ciao. Che si dice? Niente di che, stavo solo passeggiando per il quartiere e ho pensato di passare a dirti di andare a farti fottere per aver fatto la spia. No, dico davvero tu. Probabilmente mi hai salvato la vita. Quindi qualunque cosa sia successo, comunque sia andata e anche se è andata a finire nel modo in cui è andata a finire, grazie a Dio è andata così. Perché non sarai qui a dirti che ti perdono. E questo è davvero molto molto bello perché ho tante persone a cui chiedere scusa ma non molto a cui dire ti perdono. Perciò... Grazie di tutto. Quindi non ti stai drogando? No, e tu? Ma sì. Tranquillo, non lo dico a nessuno. Ti senti con Jules? No, tu? Neanch'io. Per questo mi ci vorrà più tempo. Lo capisco. Ti suono qualcosa? Sì, certo, perché no? Ok.